In questo tutorial affrontiamo l'equivalenza fra triangolo e trapezio. Il teorema recita in questa maniera. Un trapezio è equivalente a un triangolo che ha per altezza la stessa altezza e per base la somma delle basi del trapezio. In figura ho disegnato un trapezio di vertici A, B, C, D e ho indicato con B, H l'altezza del trapezio. Ho poi disegnato il triangolo A, B, E. Come ipotesi abbiamo che A, B, C, D è un trapezio e che A, E, ossia la base del triangolo, risulti congruente ad A, D più B, C, ossia congruente alla somma delle basi del trapezio. Come tesi devo dimostrare che il trapezio risulta essere equivalente al triangolo di vertici A, B, E. Vediamo ora come poter dimostrare il teorema. Come prima cosa prolunghiamo la base A, D dalla parte di D di un segmento D, E congruente a B, C. Congiungiamo poi B con E e indichiamo con O il punto di intersezione di questo segmento con D, C. In questo modo restano definiti due triangoli, il triangolo O, B, C e il triangolo O, E, D. Voglio dimostrare che questi due triangoli sono congruenti tra di loro. Come prima cosa osservo che B, C e D, E sono congruenti per costruzione. Poi l'angolo in B e l'angolo in E sono congruenti in quanto angoli alterni interni formati dalle rette parallele B, C, ossia questa, e A, E e tagliate dalla trasversale B, E. L'angolo in C e l'angolo in D sono congruenti tra di loro perché sono sempre angoli alterni interni formati dalle stesse rette parallele tagliate dalla trasversale C, D. E allora i due triangoli risultano essere congruenti per il secondo criterio. Essendo congruenti risulteranno anche equivalenti tra di loro. Osservo ora che il trapezio di vertici A, B, C, D può essere pensato come somma del quadrilatero di vertici A, D, O, B con il triangolo O, B, C. Osservi inoltre che il triangolo di vertici A, B, E può essere pensato come somma dello stesso quadrilatero di vertici A, D, O, B a cui si somma il triangolo di vertici O, E, D. Tenendo ora presente che questo triangolo è equivalente a questo triangolo posso concludere che il trapezio di vertici A, B, C, D e il triangolo A, B, E essendo equi composti allora sono equivalenti tra di loro. E in questo modo ho dimostrato il teorema.